Tre anticipazioni ulteriori di Watch & Wonders, vediamo di cosa si tratta. Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Proseguono i video, siamo, mentre lo sto registrando pochi giorni prima dall'inizio di Watch & Wonders 2024 e già escono delle novità. In questo video ne farò vedere, spero, tre, che sono tutte a vario titolo interessanti. Cominciamo con un colpo grosso, cioè il Ferdinand Bertou FB R.E.S., cioè Ferdinand Bertou, Remontoir de Galité, Schelet. Andiamo a vedere di cosa si tratta e illustriamoci un po' gli occhi, almeno con i contenuti tecnici e con la visione del calibro. Eccolo qui, 44 mm di diametro, è una sorta di FB2, quindi a tre sfere, senza turbion, con indicatore della riserva di carica, con i secondi morti, con in più un remontoir de Galité. L'FB2 aveva già un sistema per stabilizzare la coppia, cioè il sistema fuso a catena. Qui semplicemente viene aggiunto un remontoir a un minuto collegandolo al meccanismo di secondi morti, come fa Giurno sul suo e anche mio, Turbion, a secondi morti. E vediamo questo nuovo quadrante che è in parte scheletta e in parte open, ma è molto bello. Al 9 abbiamo la riserva di carica e poi abbiamo queste luorte lucidate a specchio sul quadrante che fanno vedere anche qualcosa del remontoir, che però poi si vede ancora meglio nel lato B, oltre a vedersi il meccanismo diffuso e catena. Quindi è un calibro complesso e pensate che per questo orologio sono previste oltre 200 personalizzazioni, ma poiché i calibri che saranno montati sono solo 38, diciamo che molte opzioni non saranno mai percorse dagli utenti. Si possono scegliere non solo il materiale titanio, titanio ceramico, i vari tipi di oro, il platino, ma si può scegliere persino la forma della cassa, poi tante personalizzazioni sui colori e le finiture del quadrante. Naturalmente tutte le finiture sono del massimo livello, 38 pezzi saranno prodotti, i prezzi variano anche a seconda dei materiali e delle lavorazioni, fra i 217 mila franchi svizzeri e i 274 mila franchi svizzeri, quindi prezzi estremamente importanti. Cosa penso io? Bellissimo il lato B. Il lato A non male, ma niente di eccezionale. Prezzo stratosferico, ma le finiture anche del calibro sono del livello più alto immaginabile. Lo scorso anno ho dedicato un video a questo Space One, nuovo orologio e nuovo marchio, era un saltarello fatto dalla collaborazione tra Bernard Ledet e l'orologiario francese giovane Théo Offré, molto talentuoso. E questo orologio, che appunto è un saltarello con cassa in titanio e tutto, è andato in piccola serie, è venduto tutto sold out e fu un grande successo. Ebbene, quest'anno Bernard Ledet, Guillaume Ledet ci riprova con Théo Offré e con Olivier Grammiet, che è un designer specializzato nelle moto e negli orologi. Tenete anche presente che Ledet non è un uomo qualunque, è un imprenditore che sta rivitalizzando Vulcan, Nevada Grandchen e pure Excelsior Park. Scopo è quello di portare alta orologeria d'avanguardia anche nel design a prezzi molto accessibili. E stavolta si sono spinti molto più in là perché propongono Space One Tellurium, cioè con un sistema planetario del sistema, una rappresentazione mobile del sistema solare. Voi ricorderete sicuramente gli orologi astronomici di Ulysse Nardenne, la trilogia che iniziò nel 92, progettata da Ludwig Horschlin, e ora abbiamo questo Tellurium, che è cosa straordinaria, non solo ha le dimensioni di un orologio da polso abbondante, ma costa veramente molto poco. Andiamo a vedere di cosa si tratta. Le dimensioni sono abbondanti, 50 x 42 x 16 mm, ma lo ripeto è un planetario, quindi è un sistema veramente notevole. E la rappresentazione del sistema solare, qui vediamo Ulysse Nardenne, è fatta ponendo il Sole al centro immobile. Poi abbiamo perifericamente che si muovono il Sole e la Luna. La Luna si muove attorno alla Terra in 29,5 giorni, in soli in circa 365 giorni. Poi abbiamo ad ore 6, abbiamo una data istantanea, e abbiamo i mesi che invece slittano. E soprattutto abbiamo questa cassa in titanio grado 5, con un design che è assolutamente straordinario, e apprezzo anche la scelta di non aver fatto vedere il calibro, che è un Soprod P024H4. Un orologio complicato, perché per fare questa rappresentazione è appunto complicato. Semplice, facilmente leggibile, con un design spaziale e un prezzo bomba. Per 100 anni non si devono modificare le indicazioni, tutto si regola dalla corona. La campagna di preordine partirà presto, è del solo modo partecipando alla campagna di preordine per assicurarsi uno di questi orologi. 3.000 euro secchi. Non so se includono le tasse italiane o meno, ma per un orologio così, anche se è un po' grande, ma ripeto è normale, in un orologio astronomico planetario, dell'Urium appunto. E con, come posso dire, un calibro di base automatico Soprod è veramente, e con quella cassa, il titanio grado 5, tutto quanto, è veramente un grande orologio. Complimenti a Space One, all'Ede, a Theo Frey, e anche al designer che si è aggiunto per creare questo orologio. Benissimo. Vi ricordate di H.I.T.? Sono anni che stiamo seguendo la storia di H.I.T., la sua prima vita, quella molto ambiziosa, in cui si dovevano sempre più sviluppare indicazioni fluidifiche, tramite fluido, associate a calibri meccanici, in cui si doveva arrivare a orologi più piccoli e più economici, partendo da dimensioni molto grandi, dovute anche alla tecnologia, con i contenitori dei liquidi, con la pompa idraulica azionata dal calibro, con i capillari che contengono il liquido. Sembrava già molto difficile ridurre le dimensioni, ma H.I.T., come sapete, poi dichiarò bancarotta, e così non ha pagato, pare, qualche fornitore, e poi è stata risuscitata, in parte, dalle stesse persone che avevano dato vita alla precedente H.I.T., all'inizio c'era cerrato come Sio, e le cose non mi sembrano andassero tanto bene, né dal punto di vista distributivo, perché stranamente cerrato non si voleva rivolgere a chi aveva comprato i precedenti H.I.T., e non si sa bene per quale ragione, tanto più che sono usciti modelli fantasmagorici, con turbion centrali, con palline che ruotavano, non si sa bene a quale scopo, se non a quello di creare l'illusione di qualcosa senza molto senso, dimensioni e prezzi terrificanti, ma ora c'è una svolta, con un nuovo direttore, arriva, si torna un po' alle origini e al progetto iniziale, e arriva il T1, che è finalmente un H.I.T. con uno stile diverso e dimensioni più piccole, che sia l'inizio veramente del rilancio? Io lo spero tantissimo, perché a quel progetto ho creduto tanti anni fa e ci ho messo soldi. Andiamo a vedere questo T1. Ma è da avere un H.I.T., perché a guardarlo così non sembra. 45 x 46 x 17, quindi le dimensioni sono ancora abbondanti, ma meno dei 48 mm precedenti. E poi qui non abbiamo le anse, quindi il lag to lag è contenuto. E poi abbiamo un dial chiuso e con finiture e aspetto da orologeria tradizionale. Certo, attorno c'è sempre il capillare con il liquido trasparente, il liquido colorato, e quello che serve per compensare le differenze termiche, ma effettivamente siamo in un altro ambito estetico. e a me questo piace molto. Peccato che il quadrante salmone non sia in rame, ma sia ottone PVD. E avete appena visto, e state vedendo, il calibro, che è l'ultima versione, quella del 2019, significativamente migliorata, perché stavolta l'indicazione fluidifica avviene su un sistema di canna e di camme e di una ruota a 13 posizioni. Quindi l'avanzamento del liquido avviene con maggior rispetto degli effettivi minuti trascorsi. Sono disponibili quattro versioni di questo orologio per questa collezione T1 che ha gli inizi e a cui auguro tanta buona fortuna. L'aspetto è interessante, anche se meno avveniristica originale dei precedenti, le dimensioni sono più piccole e anche i prezzi sono minori, perché si parte da 48.000 euro, da quello che capisco, fino ai circa 67.000 a seconda del materiale, eccetera, eccetera. Che dire? Interessante, bisogna vedere se riusciranno ad andare avanti su questa strada, ridurre le dimensioni, ridurre i costi e questi sono gli aspetti principali e quindi staremo a vedere. È un risultato che per il momento non mi strappa entusiasmo, ma certo riconosco un passo avanti rispetto ai tourbillon centrali con le palline che girano. e quindi ecco, ricordo che la modifica del calibro fu fatta dal grande Eric Cudret, quello che in Gégé Lecoutre diede origine al giro tourbillon ed è anche quello che montava i cabestan, così tanto per aggiungere dei dettagli di conoscenza. Eric Cudret che ho conosciuto personalmente tanti ormai anni fa. Bene, vi ringrazio per questo video è tutto, per questa preview di Salone Watch & Wonders è tutto, vi ringrazio, vi saluto, iscrivetevi al canale, mettete like e al prossimo video. Ciao! Ciao!